Ciao a tutti, sono Giuliano Olivati, vicepresidente nazionale della FIAIP, la federazione italiana agenti immobiliari professionali. La gente ci conosce come quelli che vendono le case, cioè aiutano le persone a trovare la casa che stanno cercando. Questo è il risultato visibile di un grande lavoro che ci sta dietro, è un po' come la punta dell'iceberg. Ma la gente sa in che cosa consiste il nostro lavoro, cioè le azioni che mettiamo in campo tutti i giorni per far girare il mercato immobiliare, sa come lavoriamo per soddisfare da una parte chi vende e dall'altra chi compra a casa, che grazie al nostro lavoro riescono a trovare un punto d'incontro, spesso difficile, faticoso. Noi vogliamo dare la parola agli agenti immobiliari. Da oggi inizia un viaggio in tutte le regioni italiane. Un viaggio nel quale ci faremo raccontare dagli agenti immobiliari FIAIP il dietro le quinte del loro lavoro. Seguiteci e restate collegati per saperne di più.